il recipient of the fifth edition of the Palosio Building Peace Award is a hero of our times Dr. Hawa Abdi è stata l'attrice Sharon Stone già vincitrice del Peace Summit Award nel 2013 la madrina della quinta edizione del premio Building Peace Award sponsorizzato dal produttore friulano di Ponteggi e casseforma Pilosio un premio vinto nel 2015 dall'attivista somala Hawa Abdi che negli anni ha registrato una grande crescita di ospiti e di pubblico come conferma il CEO dell'azienda Dario Rustajan siamo arrivati appunto alla quinta edizione di questo premio che insomma è un bel traguardo ed è un bel traguardo proprio perché sono cresciuti anche i partecipanti a questo premio quest'anno saremo 430 e veniamo da 40 paesi diversi per cui direi che per noi è un grandissimo successo perché anche il numero dei nostri amici, degli amici della Pilosio Building Peace stanno crescendo e questo ci fa ben sperare anche per il supporto del nostro progetto principale che si chiama Rebuild ricostruire in questo slogan è contenuta la filosofia solidale di Pilosio e della sua fondazione Building Peace che ha progettato e realizzato dei moduli edili capaci di offrire ospitalità decorosa agli studenti dei campi profughi siriani contribuendo a ricostruire non solo fisicamente ma anche umanamente ciò che la guerra ha distrutto Rebuild, un progetto che vuole aiutare le persone più bisognose soprattutto in questo caso persone, i rifugiati, i rifugiati nei campi profughi per i quali noi stiamo cercando di costruire per esempio delle scuole ma anche altre strutture di cui avranno bisogno ed è questa la nostra missione, vogliamo farlo crescere sempre di più oggi ne abbiamo costruite due, due vuol dire per noi dare la possibilità di mandare a scuola 600 bambini ma sono comunque solo 600 perché un milione di bambini oggi stanno rischiando di andare di non avere un futuro, lost generation, tanto per usare la parola inglese e anche questi hanno necessità di scuole e questo noi da soli non lo possiamo fare ed è per questo che noi invitiamo ogni anno le imprese di costruzione di tutto il mondo perché queste ci aiutino a fare sempre di più e a creare un vero e proprio impatto ed è di questo che abbiamo bisogno il nostro sogno è quello di contribuire e di riuscire ad evitare che ci sia una lost generation